In un momento difficile come questo, che l'Italia tutta sta vivendo giorno dopo giorno, la tua radio ti avvicina in ogni istante della giornata. Se ti senti solo e hai bisogno di compagnia, ricorda che puoi sempre chiamarci o utilizzare i nostri canali social. Anche solo due parole possono aiutarti a vivere meglio la giornata. Lavoriamo per te. Lavoriamo per il bene del nostro paese. Oh, yeah, sometimes you gotta lose somebody.